Mister, forse l'avete sentito troppo questo derby, tante lacune anche e soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Sì, non lo so se l'abbiamo sentito troppo, però non l'abbiamo proprio giocato, abbiamo giocato male e magari la sconfitta ci sta perché l'Aquila ha fatto sicuramente meglio di noi e più di noi, non so perché è stato giocato così male, forse l'abbiamo sentito, ieri erano venuti i tifosi, ci tenevamo e ci dispiace tantissimo per aver fatto una prestazione così sotto tono. La partita si può perdere, però l'abbiamo persa male, questo è il rammarico più grande, è la grande delusione da parte dei ragazzi e da parte mia, siamo noi i primi ad essere delusi della prestazione che abbiamo fatto. Quanto hanno inciso le assenze ai Mister? E glielo devo chiedere, ovviamente lei non dirà mai che quelli che hanno giocato hanno dei valori diversi, però le assenze erano importanti. Le assenze è un pochino che abbiamo fatto l'abitudine perché Ferrani, Roberti è un pochino che stanno fuori, quindi è sempre una sorta di alibi quella di dire abbiamo, ci avevamo gli assenti. Noi eravamo venuti qua convinti di poter fare un'altra partita e non ci siamo riusciti e non mi sembra il caso di appellarsi agli assenti. Quelli che sono andati in campo in altre prestazioni avevano fatto in pieno il loro dovere, oggi bisogna metterci la faccia e dire che non abbiamo giocato bene, che l'Aguila ha meritato e che magari c'è subito la possibilità di ripartire perché adesso abbiamo due partite impegnative con Romasi e Sinigallia, lo sapremmo che il ciclo era un pochino pesante e ripeto questa fa male soprattutto perché dal primo giorno i tifosi ci avevano detto che tenevano molto questa partita e ripeto la si può perdere ma non giocando così male come abbiamo fatto noi oggi, quindi siamo molto molto delusi dalla partita che abbiamo fatto. Mister, l'ultima per me guardando l'aspetto generale, non solo questa gara, questa giornata, che tipo di valori stanno uscendo fuori perché dai risultati odierni sono rientrate un po' quelle squadre che qualche settimana fa sembravano, non dico attardate ma più in difficoltà rispetto alle prime? Allora, è un campionato equilibratissimo dove ci stanno 6-7 squadre che secondo me sono, non dico sullo stesso livello, chi più chi meno può essere un pochino superiore o un pochino inferiore, però è un girone combattudissimo, oggi il Chiedi ha pareggiato con la San Benedettese, l'Aguila ha vinto con noi, Campobasso ha vinto, domenica prossima c'è San Benedettese e l'Aguila, noi giochiamo con Roma City e sarà dura, secondo me è dura che una squadra possa prendere il largo quest'anno in questo girone, con le squadre come sono competitive, è normale che oggi anche il punto avrebbe fatto comodo, magari strappandolo o giocando male, noi purtroppo quando giochiamo male non riusciamo mai a portare via niente, è successo a Termoli, è successo col Notaresco ed è successo oggi, nei momenti in cui abbiamo delle difficoltà dovremmo essere un pochino più cattivi a cercare di portare via un punto, magari anche giocando male come purtroppo abbiamo fatto oggi. Rubbo qualche altro secondo, i colleghi ce l'hanno concesso, è un luogo comune o davvero un derby, anche mentalmente parlando è un match con un valore pari a 6 punti, non a 3? Il derby ti lascia gli stracci quando lo perdi in malo modo, ripeto, non bisogna esagerare nel senso che non è una partita decisiva, io adesso abbiamo, in noi c'è grande delusione perché sappiamo che abbiamo deluso prima noi stessi, la società e i tifosi che ci hanno seguito in massa, però come si vede da tutte le domeniche, che non è una partita decisiva, non ci esclude da nessuna lotta per il campionato, però siamo consapevoli che giocando così insomma non abbiamo grandissime possibilità di fare un campionato importante.